In contri, dibattiti e degustazioni per valorizzare la cultura del vino e dell'olio extravergine d'oliva torna alla giornata nazionale della cultura del vino e dell'olio giunta alla settima edizione, l'evento promosso dall'associazione italiana Sommelier con il patrocino dei ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dei beni e delle attività culturali e del turismo in programma su tutto il territorio nazionale sabato 13 maggio Il tema di quest'anno certamente è l'olio e il vino ma come vino è racchiuso il territorio che circonda Gioia del Colle quindi dalla Valle d'Itria fino a Gravina quindi tutta quella zona delle colline del sud barese come olio apriamo con la presentazione di un testo didattico come i corsi del vino e sui corsi dell'olio per l'abbinamento dell'olio, le tipologie pugliesi quindi stiamo cercando di valorizzare anche un prodotto importante come l'olio Vitigni e cultivar tradizionali, un'identità da preservare, un patrimonio da valorizzare è questo il tema dell'iniziativa che ha come obiettivo la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale vitivinicolo e oleario di tutte le regioni italiane a contribuire alla vetrina nazionale in Puglia sarà la delegazione Murgia dell'AIS ospite del 36esimo stormo caccia dell'Aeronautica Militare di Gioia del Colle protagonisti i vini e gli oli della Murgia Carsica